L'incanto all'opera ha conquistato Taranto due voci di livello internazionale, la soprano Giuliana Gianfaldoni, Tarantina di Nascita e la tenore Joseph Calleja sono stati i protagonisti di una serata ricca di emozioni sulla palco dell'Orfeo assieme all'orchestra della Magna Grecia, diretta da Gianluca Marcianò, direttore musicale dell'ICO. Hanno eseguito aria e sinfonie di Verdi, Bellini, Gounod e Puccini, un successo sottolineato dagli applausi scroscianti. È una bellissima emozione, sicuramente è molto diverso affrontare un palcoscenico tarantino rispetto a quelli internazionali dove c'è più peso lavorativo, più tensione da quel punto di vista qui e tutto molto più emotivo. È importante fare bene per stabilire veramente che culturalmente Taranto è importante anche a livello dell'opera lirica. L'emozione è sempre grande, tornare a Taranto, rincontrare i miei musicisti, i miei amici ormai siamo veramente una famiglia. La cosa bella dell'orchestra della Magna Grecia è proprio questo clima che è un clima di famiglia, di grandi professionisti ma che si vogliono tutti bene con questa atmosfera positiva e si lavora alla grande. Un'energia fortissima che anche il pubblico recepisce e premia poi con applausi. Un'energia fortissima. Un'energia fortissima.